La cosa paradossale, molti degli incontri a cui ho partecipato con molti di voi in questi giorni, in queste settimane, sono stati particolarmente utili come esperienza professionale, non solo come esperienza umana. La cosa paradossale che è emersa anche in questi incontri, scambiandoci le idee, è come questo governo, questo ministro, questo ministra, questo governo che pretendono di essere educativi nei nostri confronti perché ci insegnano un qualcosa che a noi sfugge e quindi vogliono fare il nostro interesse, il nostro bene, sia invece profondamente diseducativo per tutto ciò che ha fatto, ma per una questione fondamentale, ci ritornerò in fondo perché secondo me chiude un po' la questione anche di cui mi voglio occupare, cioè del rapporto fra questa normativa, il Tribunale per i minorenni, l'ipotetica segnalazione per la non vaccinazione, cioè il fatto che pretendendo di educarci a essere buoni cittadini questo governo vuole in realtà solo farci diventare dei buoni sudditi. E questo perché? Perché rinuncia o meglio pretende che noi rinunciamo al fatto di scegliere consapevolmente di decidere dopo essere stati informati anziché dire di sì a un ordine che viene dall'alto. e questa imposizione era stata introdotta nel decreto legge al quinto comma dell'articolo 1 quando si prevedeva un'automatica segnalazione da parte dell'autorità sanitaria alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni laddove appunto il genitore non adempisse all'obbligo di vaccinazione con quella procedura prevista che è tuttora valida cioè di ti chiamo, cerco di convincerti, poi ti richiamo, se non ti convinco poi ti sanziono e quindi come diceva all'epoca il decreto legge segnalo alla procura della Repubblica. Allora innanzitutto cerchiamo di carire che cos'è questa segnalazione alla procura della Repubblica perché la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni già esisteva, esiste tuttora e già ha un compito, cioè quella di verificare che i genitori svolgano la loro funzione e quindi esercitino la loro responsabilità genitoriale in maniera consapevole, informata, coerente nell'interesse del minore. Quindi sostanzialmente la procura della Repubblica poteva intervenire come può intervenire tuttora laddove venga a conoscenza del fatto che i genitori o uno dei genitori non stia compiendo, non stia adempiendo a questi doveri. Ci sono delle norme del Codice Civile che sono richiamate, l'articolo 330 che dice che il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. Quindi l'elemento centrale richiamato dalla norma è che se vi è un grave pregiudizio del figlio si può intervenire rimuovendo la funzione, il potere, la potestà, la responsabilità del genitore o dei genitori. Vi è poi l'ipotesi dell'articolo 333 che è una situazione un po' meno grave alla quale si fa fronte con un intervento un po' meno grave, cioè non la decadenza dalla responsabilità genitoriale ma sostanzialmente una limitazione della responsabilità stessa. Dice l'articolo 333 quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza, cioè quella del 330, ma appare comunque pregiudizievole per il figlio, il giudice può adottare provvedimenti convenienti e disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare. Quindi in sostanza si potrebbe, o meglio, nell'intenzione del potere esecutivo quando è stato fatto il decreto legge si chiedeva un intervento della procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per segnalare al giudice il fatto che il genitore ha tenuto un comportamento pregiudizievole per il figlio non vaccinandolo. La norma procedurale, l'articolo 336 appunto prevede il fatto che possa intervenire il pubblico ministero, in questo caso sarebbe intervenuto il pubblico ministero allertato dalla segnalazione della procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, cioè scusatemi, allertata dall'assegnazione dell'autorità sanitaria locale. Ora, che cosa è successo? Perché nella fase finale, nella conversione in legge questa norma è stata cancellata? È stata cancellata perché qualcuno ha fatto presente al Parlamento, quindi anche chiaramente al governo che aveva adottato questo decreto legge, ha fatto presente che c'è già una giurisprudenza su queste cose, cioè non è che l'ha scoperto questo governo il fatto che si deve vaccinare e che se non si vaccina il genitore poteva essere chiamato a rispondere di fronte al Tribunale per i minorenni. Ci sono delle pronunce, c'è un consolidato orientamento della giurisprudenza degli tribunali per i minorenni su questo aspetto, proprio sulla mancata vaccinazione, chiaramente in relazione alle vecchie leggi sulla vaccinazione, quelle che sono già state ricordate, le quattro leggi fondamentali sulle quattro differenti vaccinazioni obbligatorie che erano già previgenti. In quei casi però, in tutti quei casi, quando sono state segnalate all'attenzione dei magistrati i comportamenti dei genitori che non avevano vaccinato, la giurisprudenza che cosa ha detto in sostanza? Ha detto che il semplice fatto di non vaccinare non è di per sé valutabile in termini di non corretto esercizio della responsabilità genitoriale. Questo è molto importante perché che cosa hanno detto i giudici dei tribunali per i minorenni richiamando una giurisprudenza costituzionale? Hanno detto che in tutte quelle leggi, e quello che è stato detto per quelle leggi vale anche per la legge 119, in nessuna di quelle leggi la vaccinazione era stata formulata in termini di coercibilità. E questa è una cosa che dobbiamo avere molto chiari, nonostante un certo terrorismo che è stato fatto anche da alcuni organi di informazioni o da alcune scuole. Cioè nessuno potrà venire a prendere i nostri figli e vaccinarli se noi non diamo il consenso. Non c'è una coercibilità. Nessuno può andare a scuola zitti zitti e vaccinare i nostri figli se noi non lo abbiamo fatto, nessuno può intervenire e fare questo senza che non vi sia la nostra decisione. E questo è un elemento fondamentale, è un elemento che deve essere chiaro ed è così oggi, così come lo era prima. Non sono provvedimenti coercibili. Vi è la possibilità, in questo come in altri casi, di un intervento coercitivo ma solo esclusivamente laddove si debba andare ad intervenire su un grave, urgente, immediato pericolo sanitario per il bambino. Ma è una normativa che c'era prima, c'è tuttora e non cambia, perché non è in questa legge. È nelle leggi sanitarie e nelle leggi che attribuiscono ai sindaci certi poteri in materia di trattamenti sanitari obbligatori. Faccio per richiamarvi degli esempi per capire di cosa sto parlando. Sicuramente vi ricordate tutto quello che c'è stato a proposito, per esempio, del mancato consenso all'effettuazione delle trasfusioni di sangue per persone di determinati credi religiosi. Laddove il minore era in incombente pericolo di morte, si è provveduto con un trattamento obbligatorio, coattivo, individualizzato, specifico per quel bambino per evitare che potesse morire a causa della mancata trasfusione. Ma vedete che è tutt'altro piano rispetto a quello di cui ci stiamo occupando. Quindi questa previsione delle decisioni dei tribunali per i minorenni è molto importante perché, come recitano le ordinanze sul punto, non si può ritenere che il genitore stia esercitando male la propria responsabilità genitoriale perché non ha vaccinato. Perché, come dice appunto la giurisprudenza, questo elemento può essere valutato solamente se si accompagna ad altri comportamenti negligenti o pregiudizievoli tenuti dai genitori. Ed è il complesso di tutto questo che può far pensare, che può indurre il giudice a ritenere che quel genitore stia esercitando in maniera non adeguata la propria funzione genitoriale. E allora solo in presenza di tutto questo e non della semplice mancata vaccinazione il tribunale potrà adottare quei provvedimenti che vi dicevo prima sostanzialmente quello dell'articolo 333, quindi una limitazione della potestà genitoriale. Ma giustamente è stato messo in luce il fatto che l'articolo, questo comma 5 dell'articolo del decreto legge non è stato convertito, cioè è stato tolto in fase di conversione. Quindi l'attuale testo della legge 119 non prevede più questa obbligatorietà della ASL di effettuare la segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Ma il fatto che non ci sia l'obbligatorietà non vuol dire che non può essere fatto. Quindi ritorniamo pari pari nella situazione che c'era prima di questa legge, cioè che la procura della della Repubblica presso il tribunale per i minorenni potrà ugualmente avviare una procedura per la limitazione della potestà genitoriale e lo potrà fare appunto sulla base del fatto che i bambini non sono stati vaccinati. Quindi questo pericolo che sicuramente è di minore portata rispetto al testo del decreto legge che prevedeva un automatismo di segnalazione è comunque una situazione che potrà sempre essere fatta perché bisognerà capire quale sarà l'orientamento che verrà preso dalle autorità sanitarie locali che potranno segnalare alle procure questa situazione. non dovranno ma lo potranno fare. Ed è per questo che è molto importante quello che ricordava prima il collega De Paolis, cioè il fatto che noi non dobbiamo avere paura dei colloqui con le ASD, del confronto, perché siamo noi che lo dobbiamo chiedere, perché siamo noi che dobbiamo andare a chiedere a chi pretende di imporre una vaccinazione senza spiegarci nulla quello che invece è una risposta a quello che noi vogliamo sapere, ai dati scientifici, ai componenti, ai pericoli, alle individualizzazioni dei percorsi vaccinali sulla base di quella che è la storia, la caratteristica, la salute, la fisiologia, la patologia dei nostri figli. Perché è in quel momento del colloquio con le autorità sanitarie locali che noi andiamo a esercitare il nostro diritto all'informazione che se non viene adeguatamente soddisfatto ci consente di dire io non vaccino, ma non vaccino non perché non voglio vaccinare, punto, non vaccino perché ti ho chiesto di darmi una serie di indicazioni su quello che mi chiami a fare, sui pericoli, sulle componenti, sulle scelte, sul monodose, su tutto quello che abbiamo detto finora e tu non sei in grado di rispondermi e tu non mi vuoi rispondere e tu non mi vuoi mettere a disposizione quei dati che giustificano la tua scelta nel senso dell'obbligo vaccinale. Perché se io un domani verrò chiamato al Tribunale per i minorenni perché non ho vaccinato il mio figlio e si pretenderà di dire che non ho esercitato bene la mia responsabilità genitoriale, io potrò dire, caro procuratore della Repubblica o caro giudice, io ho chiesto tutto questo e tutto questo non mi è stato detto, mi è stato detto in maniera parziale o mi è stato detto come atto di fede cui sottostare senza mettere in discussione niente. E io così non faccio il buon genitore, io faccio il buon suddito, dico di sì agli ordini. Ma il buon genitore è questo che dovremmo andare a dire ai giudici se, speriamo di no, ma se ne verremo chiamati a rispondere, il buon genitore è quello che adotta le proprie scelte ma le adotta, siccome le deve adottare nell'interesse del minore, le adotta in maniera consapevole, cosciente, informata e non, torno a dire, in maniera sottomessa e supina. Quando abbiamo incominciato a ragionare su questo decreto legge, su quello che paventavamo sarebbe successo, spesso e volentieri fra di noi poi ci siamo ovviamente anche, avendo dovuto affrontare lavori su questi temi nei caldi mesi estivi, ogni tanto nelle riunioni e negli incontri che abbiamo fatto come legali, chiaramente, come si dice, davamo anche un po' di fuori e ci divertivamo anche a riderci sopra, pur se la materia è tutt'altro che da ridere, perché la questione è seria, la questione non è ridicola ma è seria, come si diceva. E una delle cose che ci veniva in mente di questa maggioranza politica, di questo governo, su cui ci siamo messi a riflettere, proprio su questo dato qui della responsabilità genitoriale, è che questo poi è stato il governo e la maggioranza che poi pretende di sbandierare gli interventi a sostegno della famiglia come prova del fatto che si ritiene che la famiglia sia il perno centrale della nostra società, della nostra collettività. Pretendendo in questi termini non solo poi di dare una visione monocorde della famiglia quando fortunatamente stiamo imparando a capire che ci sono molti tipi di famiglia, ma al di là di questo, pensando così di, con i family day, i fertility day, tutte queste cose qua, pensando di imporre delle ideologie e quindi quando poi invece noi stiamo chiedendo ed è stato detto nella tentativo di arginare questa scelerata deriva normativa, quando invece abbiamo detto ma se dobbiamo fare la famiglia, la buona famiglia, il buon genitore, dobbiamo appunto sapere proporre delle cose nel momento in cui veniamo chiamati a scegliere se vaccinare o non vaccinare. Non ci deve essere data un'imposizione, ci deve essere dato e illustrato un percorso e ci deve essere spiegato veramente che sia positivo per la salute dei nostri figli in questo momento esercitare, farli o non farli vaccinare. E questo chiaramente poi la storia ha parlato e ci ha detto come da parte di questo governo questo non sia venuto. E allora perché dico che è un approccio diseducativo quello di questo governo? Perché io ritengo che quando discuto con mio figlio perché non gli voglio far fare una cosa o voglio fargli fare una cosa, non mi devo porre con si fa, non si fa, ma cerchiamo sempre di spiegargli perché si fa o perché non si fa, perché sappiamo che così costruiamo non solo un buon rapporto di comunicazione e di crescita educativa con il nostro figlio, ma anche perché così lo facciamo diventare un buon cittadino. Cioè una persona che capisce quello che deve fare e quello che non deve fare, non che si abitua ad obbedire a qualcuno che sta sopra e che decide unilateralmente che cosa fare e che cosa non fare. Io penso che l'aspetto veramente peggiore di questa legge sia, come già stato detto, la lesione di un virtuoso circuito democratico. Io pretendo di essere informato e poi scelgo in responsabilità mia quello di cui devo essere informato perché così partecipo in maniera cosciente a una collettività di cui faccio parte a pieno titolo e in piena eguaglianza con chi la pensa diversamente da me e come il mio bambino non deve essere buttato fuori da un asilo perché non è vaccinato, non voglio che ci venga buttato fuori dall'asilo chi è di un'altra fede o chi è vaccinato e quindi in quel momento può essere pericoloso tra virgolette per mio figlio perché è portatore sano eccetera eccetera. Io voglio includere, non voglio escludere e voglio che il mio paese mi dia questo. Grazie a tutti.